Una partnership molto ricca quella che abbiamo con la Lewis Business School e il Network Lewis in generale. Ci supportano molto sia nella selezione, proprio nella presentazione, nell'endorsement di ragazzi. Ciao a tutti, sono Francesca. Io mi chiamo Luca Giannelli. Sono Federica Tosetto. Sono un account manager, mi occupo sia della gestione operativa delle campagne, sia del rapporto diretto con il cliente. In Digital Angels mi occupo di campagne di digital marketing. Quello che svolgo io è un ruolo abbastanza completo che si appoggia non soltanto sulla parte digital ma anche su quello che è il ruolo dell'account, quindi un ruolo a battuto tondo che coinvolge sia responsabilità che molta relazione con il cliente. Nei ragazzi cerchiamo sicuramente curiosità, proattività e voglia di darsi da fare. Skills tecniche, soprattutto quando i ragazzi provengono da master specializzati come quello del Network Lewis, sono già molto forti e presenti. Il master alla Business School mi ha dato la possibilità di non solo apprendere tante nozioni tecniche totalmente nuove, ma anche di avere una preparazione pratica nella gestione della quotidianità del lavoro. La capacità di lavoro in team, rispettare deadline. Gli aspetti più importanti del mio percorso Business School sono stati quelli anche degli eventi come Leader for Talent e tanti progetti che mi hanno dato la possibilità di vedere in prima persona, entrare in contatto con figure professionali di altissimo livello. Lewis Business School è stato utile e propedeutico a quello che sto facendo qui in agenzia per una questione operativa. Attraverso corsi e laboratori ho visto per la prima volta quelli che sono gli strumenti che vado ad utilizzare durante le mie attività lavorative. Quello che noi facciamo è accompagnarli in un percorso di formazione all'interno della nostra azienda, quindi seguono effettivamente dei corsi con i nostri partner Google e Facebook presso le loro sedi, ma soprattutto una formazione in house. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, una nuova pianificazione, una nuova richiesta all'ultimo momento perché il mondo del marketing cavalca l'onda del momento e quindi di conseguenza il nostro lavoro è molto dinamico e molto veloce. La mia giornata tipo in Digital Angels consiste nello svolgere una prima parte molto operativa, quindi tutto quello che riguarda la cura delle campagne, ma soprattutto anche della parte creativa e strategica, perché bisogna seguire il cliente non soltanto sulla parte tecnica, ma anche indirizzarlo nella strada più giusta che può essere quella per il suo business. Oltre alla formazione, quello che cerchiamo di dare ai ragazzi all'interno di Digital Angels è un approccio a un mondo lavorativo e a una realtà molto dinamica e che tiene molto alle persone che sono al loro interno. Stabiliamo per loro insieme dei percorsi di carriera. Stiamo crescendo tanto come agenzia, siamo sempre di più, noi ci riteniamo proprio una famiglia perché oltre al lavoro di cui ognuno si occupa personalmente, passiamo tanto tempo insieme, c'è sempre un momento da passare insieme, giochiamo a biliardino, a carte, pausa pranzo, quindi cerchiamo di fare tante attività insieme per conoscerci anche oltre l'aspetto professionale, questo ci ha legato tanto umanamente. Tutta una serie di attività di team building che ci portano a stare insieme e a divertirci oltre che a lavorare.